Come l'ho già detto, milord, io non ho niente da fare. E il romanzo che scrivevi? Perché non ci lavori? Mi sono arenato, purtroppo. Ho quasi strappato tutto ieri sera. Oh, no, questo non dovevi farlo. Che è successo? Sono quasi certo che la colpa sia tutta mia. Io sono fondamentalmente sereno e felice. E questo è un male, naturalmente. E in più sono normale. E ciò è fatale. Allora vorresti essere infelice e anormale? Ma certo! Vede, io voglio avere successo. E per avere successo bisogna innanzitutto essere moderni. E io, come lei, milord, non lo sono. Insomma, ecco, non mi sento abbastanza poco sicuro ed oppresso, né disperato. Ed è essenziale? Assolutamente. Io mi sento del tutto soddisfatto e irriprovevole. E non ho risentimento contro nessuno. Sei nei pasticci, vero?